Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Il buongiorno rossonero, Milan.soccer e il Milan in tasca. Dal buongiorno rossonero alla buonanotte rossonera, infatti è possibile per voi poter anche ascoltare le nostre favole, le favole per bambini rossoneri. Dunque, volevo farvi sentire una cosa, come è, diciamo così, nostra tradizione. Sentite queste voci. Aspettate che alzo un po' il volume. Ok. Questo è un festeggiamento. Vi metto anche un attimo indietro. Vediamo se riusciamo qui. Il Napoli è vicinissimo al traguardo della Serie B. Festeggiavano l'accesso alla Serie B, dalla Serie C alla Serie B. Se non ricordo male in quel periodo, questa doveva essere la partita contro la San Benedettese in uno spareggio per chi sarebbe poi andata in Serie B. Andò ovviamente il Napoli, con poi, diciamo così, anche degli acquisti importanti fatti proprio alla San Benedettese, che in quel periodo era anche probabilmente più forte. Quindi questa grande festa dalla Serie C alla Serie B. E oggi invece si festeggia ben altro, perché al di là del fatto che il Napoli stia davvero facendo bene per quanto concerne la Champions League, beh, dobbiamo dire che ieri è successo qualcosa che non ti aspetti. O perlomeno qualcosa di abbastanza provocatorio, vogliamo metterla così. E allora sarà necessaria un'altrettanta, altrettanto risposta, un'altrettanta provocatoria risposta da parte nostra, sempre in maniera goliardica, ci mancherebbe altro. Però diciamo che adesso c'è questo testa a testa. Prima però di dirvi quello che è accaduto, fatemi fare sempre un applauso, perché questa trasmissione vuole anche far, diciamo così, mettere in evidenza quelli che possono essere i punti positivi di un calcio ormai marcio. Ritorniamo alla partita di Milano, di San Siro, Milan-Celsi, l'arbitro totalmente inadeguato. Vogliamo usare questo termine perlomeno inesperto, inadeguato, completamente fuori controllo. Probabilmente un arbitro proveniente dal curling che ha prestato al calcio. Ma questo ha fatto sì che il calciatore, che ha subito a dire dell'arbitro il fallo decisivo da rigore, che poi ha determinato l'espulsione di Tomori, ieri ha detto che francamente l'espulsione non c'era assolutamente e anche quando poi l'arbitro ha fischiato il rigore io mi sono sorpreso, nel senso che comunque avevo già tirato, mi ero girato e sono rimasto un po' così perplesso. Poi forse c'era, non lo so, però insomma onore e merito alla sportività in uno sport che oggettivamente non ha più nulla di sportivo. Qualcuno diceva, credo sconcerti, che questo Milan gli ricorda quello di, forse sconcerti, no non è sconcerti, adesso perdonatemi i nomi, comunque questo Milan ricorda molto il Milan, il primo Milan di Berlusconi, non tanto per come gioca o per i valori espressi in campo, arriveremo probabilmente anche a quel tipo di possibilità, quanto piuttosto perché all'inizio dell'epoca Berlusconi il Milan non era ben visto, quindi errori madornali. Vi ricordate quando poi ci fu il famoso episodio di Belgrado? Evidentemente il Milan di Berlusconi voleva rivoluzionare il calcio, cosa che poi ha fatto grazie agli innesti di giocatori che al tempo potevano essere considerati quelli che oggi sono considerati i vari Mbappé. A proposito caro Redbird, Bappé è libero, ora vedi tu che cosa devi fare? Chiaramente stiamo scherzando, la Serie A, lo diceva anche Marotta ieri, non è all'altezza di poter supportare un certo tipo di calcio. Peccato, volevamo vedere quanto il Milan è effettivamente distante dalla Premier League, non ci siamo potuti permettere neppure questo russo, ma il cammino in Champions League per le due milanesi è ancora a disposizione nelle proprie mani, quindi per quanto concerne il Milan evidentemente può vincendo le altre due partite e poi con una serie di calcoli che vedremo a parte anche pareggiandone una può arrivare ad accedere agli ottavi di finale. Cosa che ci interessa, ma ci interessa anche vedere che cosa succederà domenica con il Verona. Prima dicevo, metterò anche il link in descrizione e anche come messaggio, insomma qui sotto troverete il link. Ieri tutto lo stadio del Napoli in attesa della partita, di nuovo vinta contro l'Ajax, un Ajax che ha preso 10 gol in due partite, si tratta di capire quanto l'Ajax sia una squadra allo sbando o quanto piuttosto il Napoli sia davvero una squadra forte. Che sia una squadra forte nessuno lo mette in dubbio, probabilmente bisognerà vedere se poi alla fine del campionato rimarrà questo tipo di forza, perché quest'anno il campionato è un po' falsato. È vero che il Napoli non ha tantissimi giocatori che vanno ai mondiali, però è altrettanto vero che quelli forti sono quelli che vanno ai mondiali, quindi bisogna capire, visto che i mondiali ci sono fra un pochissimo, un mese e mezzo, eccetera, e noi non andremo per colpa di Giorginio che ieri festeggiava questo rigore quando invece doveva disperarsi per quelli sbagliati che ci hanno buttato fuori dal mondiale a causa sua. Ecco, bisogna vedere se questi giocatori non siano già in forma per il mondiale e poi di ritorno probabilmente saranno un po' spossati o, diciamo così, segnati comunque da un mondiale che a mio modo di vedere è ridicolo fare all'interno di un contenitore che si chiama campionato. Torniamo però a quello che è successo appunto a Napoli. Ieri a Napoli hanno messo in onda, su un mega schermo che c'è al Maradona Stadium, la partita di Milan-Celsi e ci sbeffeggiavano, ci sbeffeggiavano ridendo e facendo olé ogni volta che il Chelsea segnava. Va bene, questo è un punto, un punto a loro favore probabilmente verso un approccio antisportivo, cosa che lamentano puntualmente ogni volta che vanno in ogni stadio. È vero anche che quando si fa riferimento al razzismo allora prendono le loro difese sempre e comunque. Quando si canta Vesuvia, Rutta, questa è una puttanata senza fine. Però se vogliamo fare degli sfottò, adesso ci inventeremo qualcosa. Io mi sono però già inventato qualcosa, cosa con cui chiudo questa trasmissione. Prima però lasciatemi dire che nei prossimi giorni affronteremo l'argomento Leao perché stanno venendo cose nuove, non lo facciamo oggi perché in questo momento le parole di Maldini a mio modo di vedere non danno né un sì né un no. È più un'apertura per Luca Serafini, dunque chapeau se lo dice Luca Serafini, non è un'aperturissima invece per altri giornalisti. Vedremo se ne sapremo di più. Certo il limite è quello del premondiale, prima del mondiale. Questa forse è la notizia. La notizia è che prima del mondiale si possa fare qualcosa, ma la questione della multa da pagare tra Lille e Leao allo Sporting di Lisbona ci sono novità, ma le vedremo nei prossimi giorni. Dicevo ci siamo anche noi inventati un festeggiamento e oggi passeremo, diciamo così, la giornata a festeggiare la promozione del Napoli, dalla Serie C alla Serie B. Grandi! Dalla Serie C alla Serie B esplode tutto il San Paolo, oggi Maradona Stadium. Ma vergognatevi!